Come nel film Fuga da Alcatraz, ma stavolta è tutto vero. Due detenuti sono scappati da un carcere considerato a prova d'evasione, quello di Dunnamor, nello stato di New York. Hanno praticato fuori nei muri d'acciaio, scavato tunnel dal quinto piano fino al sottosuolo e poi sono usciti dalla fognatura. Gli evasi sono due assassini. Richard Matt, 48 anni, scontava 25 anni per aver sequestrato, ucciso e smembrato un uomo. David Sweet, 34 anni, scontava l'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per avere ucciso un vice sceriffo. Nessun era mai riuscito ad evadere dal carcere Clinton di Dunnamor fin da quando è stato aperto nel 1865. I due detenuti devono aver utilizzato strumenti pesanti per aprire diversi varchi e non si sa come se li siano procurati. All'uscita hanno lasciato un post-it con su scritto Buona giornata. Si tratta di individui molto pericolosi. La polizia invita ai cittadini a non tentare di fermarli ma di riferire qualsiasi attività sospetta. Se vedete qualcosa, ditelo. La caccia all'uomo è scattata su tutto lo stato di New York e anche nel confinante Canada. Le autorità hanno annunciato una ricompensa di 100.000 dollari per chi fornirà informazioni utili alla cattura dei fuggitivi.